Si indaga ancora per scoprire le cause dell'incidente in volo che ieri ha costato la vita ad un pilota aquilano, Gino Fischione, di 61 anni. L'elicottero sul quale viaggiava è precipitato all'Anuvio, vicino Roma. Esperto di aerei, ex colonnello dell'aeronautica militare e collaboratore dell'Agusta, una volta andato in pensione, Gino Fischione, molto conosciuto in città, lascia la moglie e una figlia. All'Aquila era amato e stimato, nonostante vivesse da anni ormai a Ciampino, nella città dell'Aquila tornava spesso. Una vita la sua, dedicata al volo, istruttore nell'aeroclub di Preturo, tanti anni fa. L'elicottero ultraleggero sul quale viaggiava Gino Fischione è precipitato in un campo ieri pomeriggio. Ad occuparsi dell'inchiesta sono i carabinieri di Lanuvio e quelli della compagnia di Velletri. Sul posto per il recupero del corpo sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Purtroppo per Gino Fischione non c'è stato nulla da fare.